Io sono stata collega di Roberto Maroni, era una persona capace di grande visione e di grande concretezza ed era una delle persone che ho conosciuto che di più sapevano fare gioco di squadra. Ne ho un ricordo straordinario, tra l'altro ci sentivamo fino agli ultimi giorni e penso che l'Italia sia stata fortunata a poter contare su una persona così nelle sue istituzioni. Grazie. Grazie.